Salve a tutti, buon tutto. Seguitemi sul mio canale ValentinaRipanti8538 su YouTube perché ci sono tantissimi video, anche shorts ci sono interessanti, quindi di qualsiasi genere perché il mio canale è misto, di tutto, c'è di tutto. Quindi se siete interessati a conoscermi anche bene, seguite anche la mia storia su YouTube. Ecco, potete cercare anche ValentinaRipanti la mia storia e trovate la mia storia. Quindi provate a iscrivervi, mi farebbe piacere se vi iscrivete in tanti, che mettete like, che fate commenti. C'è anche la community adesso su YouTube e ho alcuni post anche nella community, quindi venite a vedere anche i post nella mia community. Mi farebbe tanto piacere che visionate tutti i video. Ecco, perché dico cose importanti, dico molte cose importanti, quindi mi farebbe piacere chi mi segue su AppMeet, di venire anche a cliccare sul mio canale e non vedere solo i video su quel sito, ma vedere anche i video sul mio canale di YouTube. Ecco, perché io mi sono iscritta su quel sito lì, MyAppMeet, per ottenere più iscrizioni e visualizzazioni, like e commenti su YouTube. Ecco, questo volevo dire. Quindi non limitatevi a guardare solo quello che posto anche lì su quel sito che ho scoperto ieri sera. Quindi ecco qua. Perché io proprio sto mettendo i video, alcuni, per farvi venire sul mio canale di YouTube, per farmi conoscere. Ecco, ciao a tutti!